Ti sei mai chiesto se esistono davvero nuove opportunità di business capaci di cambiare la tua vita? Hai il desiderio di migliorare perché senti di valere di più? Allora da oggi puoi metterti in gioco con entusiasmo in una nuova attività imprenditoriale grazie ad un sistema efficace, vincente, che valorizza il lavoro di squadra. Vuoi sapere come? Sicuramente conosci tante persone che bevono caffè. Infatti si tratta della bevanda più consumata al mondo ed è il secondo bene più commercializzato dopo il petrolio. La vendita di nuove forme di caffè cresce di anno in anno ed il consumo solo in Europa riguarda 440 milioni di persone per un giro d'affari di 12,4 miliardi di euro al mese. Il caffè non conosce crisi, non è un lusso e fa parte della vita quotidiana di tutti. Questo significa che le aziende che commercializzano caffè non subiscono mode e cicli economici negativi e hanno introlti sicuri ogni anno. Ma rispondi a questa domanda quando è stata l'ultima volta che una qualsiasi azienda ti ha pagato per bere e consigliare il suo caffè? Come dici? Mai! Beh, perché non ti hanno ancora svelato l'esistenza del primo caffè al mondo che ti paga! È esatto! Puoi essere pagato ogni volta che consiglierai il nostro caffè creando una grande squadra di consumo e promozione. Con il tuo passaparola e con un semplice gesto quotidiano verrai pagato tutte le settimane. Perché scegliere il nostro caffè? Perché è un caffè unico di qualità superiore che contiene un ingrediente esclusivo e potente presente da 4.000 anni nella cultura cinese. Il Ganoderma lucido o Reishi è un fungo già rinomato nell'antica Asia e oggi riconosciuto come un ottimo integratore alimentare per migliorare il nostro benessere. Puoi approfondire tu stesso in internet e sul sito web www.reishi.com Grazie al tuo passaparola moltissime persone avranno l'opportunità di un doppio benessere fisico ed economico consigliando una bevanda speciale che fa bene a tutti. Se anche tu vuoi essere protagonista in un settore che non conosce crisi essere partner di un'azienda leader nel suo settore con un prodotto innovativo ora sei nel posto giusto al momento giusto inizia da subito a migliorare la tua vita con un nuovo business di successo Change your coffee Change your life Inserisci la tua mail nel riquadro a destra e premi il tasto OK Gratis e senza impegno ti daremo tutte le informazioni poi sarai tu a decidere se fare parte del nostro fantastico team